Sono cominciati lunedì 10 settembre a Pordenone i lavori di realizzazione della nuova rotatoria lungo la statale 13 Pontebana, in corrispondenza dell'incrocio con via Revedole. Tale rotatoria, assieme a quella di Viale della Libertà e quella all'altezza del supermercato Eurospar, va a completare un nuovo sistema viario che ha l'obiettivo di rendere più fluida la circolazione su questo tratto di strada statale. L'assessore comunale Nicola Conficoni. Continua l'impegno dell'amministrazione comunale volto a rendere più scorrevole la strada statale 13 Pontebana. Dopo la rotatoria ricavata all'altezza di Viale della Libertà, un altro intervento, questa volta in corrispondenza con via Revedole. Non mancheranno i disagi, in particolare dovuti alla chiusura degli accessi dalla statale su via Revedole, inizialmente in direzione centro città, successivamente in direzione torre Cordenons. Le deviazioni viabilistiche sono state comunque pubblicizzate sia attraverso l'installazione di donna cartellonistica che attraverso la diffusione di volantini. La nuova rotatoria avrà un diametro di 32 metri, più piccolo rispetto a quella ricavata in Viale della Libertà, per cui ci aspettiamo un beneficio sulla fluidificazione del traffico nei momenti in cui questo avrà minore intensità. Se però la sperimentazione del nuovo sistema viario, costituito da tre rotonde, avrà un impatto positivo, siamo pronti a consolidarle ed anche ad aumentarle il diametro attraverso l'effettuazione di alcuni espropri. Da sottolineare in positivo che questi interventi sono stati realizzati a costo zero per l'amministrazione comunale, proprio grazie al concorso nell'operazione sia di Friuli Venezia Giulia Strade, che ringraziamo per la collaborazione, che dei privati, in particolare quest'ultimo intervento all'altezza di Via Rivedola viene interamente finanziato dall'Aspiag che detiene la proprietà del supermercato Eurospar.